Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 come sempre tutte le mattine in diretta alle 7.30 c'è la rassegna stampa ovvero la lettura dei giornali che tra poco faremo tra un istante adesso vediamo il santo del giorno e poi vediamo le previsioni del tempo allora la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore oggi mercoledì 5 agosto il sole sorti alle 6 e tramonterà alle 20.28 il tempo dicevamo guardate il cielo sarà oggi sereno su tutta la costa con temperature in lieve momento per la giornata di domani allo stesso nulla da segnalare avremo una giornata di sole bella con temperature in ulteriore lieve aumento i venti saranno di brezza leggera per venerdì avremo lo stesso cielo sereno o poco nuvoloso con temperature che saliranno ancora la giornata di domenica sarà probabilmente caratterizzata da condizioni di instabilità andiamo a leggere i giornali allora cominciamo dal Corriere Adriatico la pagina di Pesaro ristorazione in spiaggia per tutti l'assessore De Regis in commissione afferma che non si torna indietro sulla decisione nonostante le proteste gli stabilimenti potranno ampliarsi per 15 metri quadrati l'arenile per i cani invece verrà realizzato alla foce del fiume Foglia resistono allo sgombero e una coppia occupa uno stabile in via Baldassini sempre a Pesaro arriva il 113 la polizia lui finisce in cella per resistenza pubblico ufficiale lei invece è stata denunciata svaliggiata l'abitazione di una pensionata al secondo tentativo il ladro si dà alla fuga furti senza fine a Fermignano da Fano invece scatta l'allarme ospedale unico l'ex assessore oggi consigliere d'opposizione Alberto Santorelli annuncia lo fanno a Muraglia Seri il sindaco di Fano succube di Pesaro il sindaco replica dice Barzelletta noi siamo contrari siamo contrari affinché questo ospedale che dovrà servire Pesaro e Fano venga realizzato nel comune di Pesaro quindi a Muraglia fibrillazione per la notizia di un incontro a tre con il governatore Ceriscioli nuove prescrizioni invece per le scogliere poi ancora dal quotidiano delle marche la pagina di Fano in Valle del Cesano non ha retto la crisi coniugale Luciano Lucciarini di 51 anni è stato trovato morto dopo un giorno di ricerche shock nell'alta valle del Cesano un operaio era operaio alla Indesit di Fabriano aveva annunciato il suicidio con un biglietto nell'agriturismo di famiglia mariti separati e soprattutto padri disperati in pochi giorni doppio dramma nella provincia da Senigallia notte bianca allarme per l'alcol su Facebook propaganda di bevute gratis una mamma si rivolge alla polizia municipale molte famiglie sono ancora scosse dall'episodio di sabato quando un quindicenne di Ostra è finito in coma etilico la pagina di Pesaro del Messaggero invece guardate questo rendering è un progetto sul futuro piazzale della libertà a Pesaro dove c'è la palla di pomodoro il progetto già divide si tratta di questo nuovo look il rendering svelato dal comune scatena la rete sembra un eliporto troppo cemento e poco verde beh sì in effetti se andiamo a vedere se qui ci mettiamo una croce sembra un eliporto aspetta la facciamo così no? sembra un po' un eliporto circa va bene dibattito continua allora andiamo a vedere adesso invece la pagina a proposito di eliporto invece questo è l'aeroporto l'aeroporto delle Marche che va ai russi il presidente Ceriscioli riflette Rimini invece si augura di no non vuole sborsare un milione e mezzo di euro per il comarketing la Romagna teme di perdere tutto l'incoming da Mosca consiglio meno spese parliamo del consiglio regionale meno spese per 500 mila euro e i consiglieri dovranno timbrare il cartellino si parla in questo articolo dei costi della politica la stretta del neopresidente Mastro Vincenzo il dirigente alla comunicazione scomparirà intanto ecco si parla di vari tagli come per esempio il taglio alle spese postali telefoniche per l'acquisto di quotidiani per l'ufficio di presidenza si passa da 73 mila euro a 6.300 euro quindi il 91,37% in meno rispetto alla passata legislatura viene da pensare 73 mila euro di acquisto di quotidiani poi quelle postali per i consiglieri gruppi consigliari insomma un articolo interessante tutto da leggere che dà insomma anche un po' di speranza che le cose possano cambiare davvero e non siano dunque soltanto slogan elettorali la spiaggia dei cani a Pesaro finisce a Baia Flaminia tra Villa Marina e il Dog Park a Campo di Marte a sorpresa spunta la terza ipotesi avallata dalla giunta il tratto dell'arenile scelto è vicino alla foce del fiume Foglia non lontano dal giardino delle sabbie e delle dune mentre c'è questa attesa per questa iniziativa di queste tante centinaia e migliaia di candele in acqua per questa manifestazione qualcuno però ha sollevato dei dubbi in particolare gli ambientalisti della Lupus che dicono ma poi tutte queste candele che fine fanno inquineranno ebbene oggi gli organizzatori della Proloco di Candelara replicano appunto gli ambientalisti della Lupus e dicono le candele non inquineranno spiagge e mare saranno fissate su paletti in legno e rimosse al termine della festa ecco bastava informarsi prima così uno evitava il comunicato di dire che inquinano cioè bastava dire ma scusate queste candele come le mettete perché a me sembra che se le lasciate così poi dove vanno a finire come quelle come si chiamano le bongolfiere quelle cose che si lanciano in aria no? d'estate con quelle magari sì perché poi non si controllano qui bastava informarsi e quindi evitare di no? anche fare le figuracce allora poca lemosina si scaglia contro i clienti lui è un mendicante che spesso si presenta nei negozi e chiede soldi ai vari acquirenti ieri ha dato in escandescenze è successo alla panetteria Raffaelli di Vialebozzi a Pesaro dove il mendicante di colore è entrato come al solito per chiedere qualche spicciolo però quando ha avuto 50 centesimi insomma si è arrabbiato e si è presa con i clienti dal Pakistan a Pesaro per chiedere asilo ai gruppi 7-8 ogni giorno da giovedì scorso si presentano davanti alle questure per cercare accoglienza arrivano via terra dalla Turchia dove si nascondono in garage pagando anche 5.000 euro per il viaggio della speranza accade anche ad Ancona Ascoli Macerata la polizia avvia indagini su questo business la pagina di Fano invece questa mattina si occupa del Carnevale e del Jets una iniziativa una manifestazione che c'è ormai da tantissimi anni tantissimo tempo così come il Carnevale il Carnevale ovviamente storia centenarie il Jets molto meno ma insomma adesso c'è questa idea che secondo me non verrà mai realizzata ma comunque c'è questa idea di fare anche perché già l'avevo sentita per fare di Fano la New Orleans dell'Adriatico così sulla carta o idealmente sarebbe anche una cosa molto interessante però non credo che ci sia la voglia di mischiare il pubblico del Jets con quello del Carnevale insomma non per valorizzare uno e denigrare l'altro ma non credo che le persone che gestiscono questi due eventi abbiano voglia o in particolare uno abbia voglia di mischiare queste cose insomma quindi è una proposta e credo che rimarrà tale all'incontro tra i carristi ed ente Carnevalesca non si è discusso solo dell'evento invernale ma anche del rilancio della sfilata estiva la vongolare rischia di affondare salvata dal fondale troppo basso ma come vedremo tra poco in realtà nessuna vongolare affondata si è trattato semplicemente di una bufala e la vedremo tra un istante adesso andiamo sul il resto del Carlino il Carlino anche oggi si occupa del delitto di Ismaele Lulli sotto shock adesso è l'amico di Igli quello che ha ucciso Ismaele perché questo amico gli rivelò è stato lui e dirgli guarda che Ambra ti sta tradendo con Ismaele è un vantenne dell'Urbinate non credevo dice mortificato perché adesso insomma giustamente ha anche un senso di colpa abbastanza pesante che lo assilla se stavo zitto era meglio questa è la domanda visto quello che è successo però lui dice non credevo che potesse Igli arrivare a tanto sentito dai carabinieri si mortifica poi va in vacanza per dimenticare sull'ospedale unico Fano teme l'ipotesi muraglia un incontro dei sindaci con Ceriscioli Santorelli dice Seri non si è opposto si racconta di questo incontro a tre la settimana scorsa tra Luca Ceriscioli presidente della regione Matteo Ricci sindaco di Pesero e Massimo Seri sindaco di Fano in regione un incontro sul quale si è concentrato appunto il consigliere di progetto Fano Alberto Santorelli apertamente polemico verso Seri questi interventi di Santorelli continui non è che vuole fare il sindaco di Fano tra quattro anni no è partito alla carica Alberto Santorelli probabilmente siccome manca il leader del centro-destra è facile che lo stiano buttando avanti a spintoni per vedere un po' la reazione lo stanno facendo intervenire su tutto e adesso vediamo che effetto fa vabbè vediamo pronto soccorso l'affanno è servito sale gremite di barelle e di notte stanze di osservazione chiuse aumento di accessi e personale ridotto il collasso è ormai vicino c'è l'allarme della CGL inviata una lettera ai vertici di Marche Nord si sente la mancanza dei posti letto poi c'è questa storia che arriva da Desenzano ma dove sono protagonisti i 12 pesaresi che sono andati appunto a Desenzano per festeggiare l'addio al celibato di un amico che però è finito in rissa perché perché quando gli è arrivato il conto hanno visto che insomma il proprietario del locale probabilmente aveva esagerato i clienti insoddisfatti hanno cominciato a rovesciare i tavoli gettando a terra piatti i bicchieri danneggiando su pelletti la davvero la peggio è stata una cameriera che ha riportato diverse contusioni andiamo sull'altra pagina siamo quasi in chiusura la pagina di Fano del resto del Carlino allora intanto la notizia che arriva lo yacht e quindi il traffico in tilt è chiaro che quando passa lo yacht insomma crea crea disagi per tanto tempo quando le cose andavano bene ci arrabbiavamo la mattina ci arrabbiavamo dicendo ma scusate non si poteva far passare di sera eccetera di notte quando non ci sono le macchine non c'è insomma adesso con la crisi e l'aria che tira forse ci si arrabbia di meno diciamo beh insomma sono segnali in realtà di ripresa per cui sopportiamo anche magari qualche attesa in più in coda nel traffico cittadino ex campo dell'aviazione occupato invece tavoli ombrelloni auto sull'erba il comitato Bartolagi mobilitato vigili urbani allertati più volte parla Anna Tonelli che dice a me hanno mandato foto ma non possiamo farci nulla è un luogo pubblico ormai soltanto per pochi si tratta di questa di un'altra occupazione abusiva nella zona dell'ex campo d'aviazione ma a differenza dei pacifici grisli che hanno fatto proprio lo stabile di via della colonna è un gruppo di agguerriti anziani questo di cui parla il giornale con cani al seguito ad essere questa volta nel mirino delle critiche di alcuni cittadini che hanno segnalato un abuso ai vigili urbani del comitato Bartolacci poi sopra alla radio vongolare affondata ma era una bufala una vongolare che è affondata nel porto di Fano per una falla circolava appunto questa voce ieri in città che annunciava e annunciava un radiogiornale però era una bufala alla capiteneria di porto di Fano invece fatti infatti hanno detto che non c'è stato nessun affondamento nella notte intorno alle 3.30 alla sala operativa è stata segnalata una vongolare piegata sul lato sinistro anche perché diciamocela tutta come fa affondare una barca al porto di Fano se non c'è l'acqua per affondare cioè anche volendo non affonderebbe mai perché c'è tutto fango per cui se si è adagiata è come se fosse affondata anche se poi in realtà è rimasta lì in questo caso forse per fortuna ma è impossibile da affondare al porto di Fano con tutto il fango che c'è non c'è però comunque la notizia forse poteva essere adatta in maniera diversa ma comunque questo poi è un dettaglio andiamo sull'altra pagina cartoceto il Vescovo Benedice la scelta ecologica lettura dell'enciclica nel frantoio bio Monsignor Marinelli ha presentato l'enciclica di Papa Francesco laudatosi da Gagliardi lo vedete Marinelli che è il Vescovo Emerito di Urbino con appunto queste persone che tra l'altro mostrano anche bottiglie di vino di olio eccetera eccetera che sono i prodotti tipici di cartoceto chiudiamo con altre due altre due pagine dal resto del Carlino intanto dalla provincia da Urbino da Urbino e provincia ha trovato morto il titolare dell'agriturismo a Serra Sant'Abbondio terminate tragicamente le ricerche del 51enne Luciano Luciarini poi sotto anzi no l'altra pagina di Urbino ecco ve la segnaliamo perché è un'iniziativa è una manifestazione davvero straordinaria la festa del Duca in Urbino ecco la strabiliante festa del Duca quest'anno omaggio all'Inghilterra esordio della nuova presidente Rosanna Cipriani Saltarelli e tra l'altro la seguiremo anche noi questa bella manifestazione perché davvero ne vale la pena e soprattutto la facciamo vedere la mostriamo anche a coloro che ci seguono ai tantissimi di voi che ci seguite tutti i giorni dalla costa adriatica da Ancona fino a Pesano merita di essere promossa è tutto la nostra segna stampa termina qui noi ci rivediamo questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia vi ricordo il nostro sito internet occhio alla notizia punto it e il 338 4968250 invece che potete utilizzare anche con Whatsapp per le vostre segnalazioni buona giornata a tutti arrivederci